Chi sono i suoi amici? Personalmente amo i giovani. Li amo perché sono semplici, sono di pasta buona, hanno gli occhi puliti e ne sono spesso ricambiati. Amo soprattutto i miei carabinieri di oggi, di ieri, di ogni ordine grado, anche quelli che non sono più. Quando eravamo ragazzi, a vent'anni, e raggiungevamo l'ambito ingresso dell'arma, e la mare era la cosa più esaltante insieme alla fiamma della nostra istituzione. Ricordo che i nostri maestri insistevano nel dire che dovevano essere serviti con umiltà, non usati, non sfruttati. E perché erano puliti nel loro argento, anche quando per qualche frazione di momento si fossero ossidati. E ricordo ancora che facevamo a gara, anche con qualche sacrificio di stipendio, nel farceli cucire sulla giuppa, non applicarlo, ma proprio cucire sulla giuppa, come se volessimo che ce li cucissero sulla pelle. Grazie. 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 Grazie.